Salutiamo il Santo Padre, Sua Santità Papa Francesco, buonasera Santo Padre, buonasera a tutti, grazie Santo Padre, grazie per essere con noi, un abbraccio fortissimo e affettuoso. Allora, grazie ancora per questa sua ulteriore decisione di venire incontro a noi, di venire a trovarci nelle nostre case. La prima domanda che voglio fare è come sta Santo Padre, innanzitutto come sta? Ma mi viene da dirti ancora vivo? No, sa perché? Spesso si sente parlare di sue dimissioni, no? Allora, mi sono sempre chiesto, ma è un pensiero che la appartiene o piuttosto è una preoccupazione o magari è un desiderio di qualcun altro? Senti, non è né un pensiero, né una preoccupazione, neppure un desiderio, è una possibilità aperta a tutti i papi, ma per il momento non è al centro dei miei pensieri e dei miei inquietudi, dei miei sentimenti. Nel tempo che io mi sento con capacità di servire vado avanti, quando non ce la farò più sarà il momento di pensarci, sai? Ne sono molto felice, è una grande, bella notizia. Santo Padre, noi ci eravamo incontrati qui quasi due anni fa con dei venti di guerra che sono diventati una tempesta, l'Ucraina da una parte, gli avvenimenti terribili in Israele e poi il conseguente inferno su Gaza dall'altra, per non parlare adesso dello Yemen e di tutte le guerre dimenticate. Perché secondo lei c'è questa voglia di apparente autodistruzione nel nostro tempo? Come tu dici, c'è qualche cosa di apparente autodistruzione. È difficile fare la pace. non so perché, c'è qualcosa autodistruttiva dentro. Quando nel 14 io sono andato a Redi Puglia, ho visto il risultato di quella strada. Io pianto, ho pianto. ogni primo novembre vado in un cimitero a celebrare. Quando sono andato ad Ansio, erano i ragazzi che hanno entrato, poca età, tutti morti. Tutti morti. L'ultima volta sono andato al cimitero inglese, guardavo l'età e pensavo alle mamme che ricevono quella lettera, signora, ho l'onore di dire che lei ha un figlio eroe. E la mamma sente, no, io voglio il figlio, non l'eroe. Perdono i figli. E pensiamo cosa significa una guerra. Pensiamo allo sbarco in Normandia, che si è stata celebrata tempo fa, il sessantesimo credo. Ma sulla spiazza della Normandia sono rimasti 20.000 ragazzi. Questa è la guerra. Questa è la guerra. Dobbiamo pensarci. Lei è impegnato in prima persona, anche oggi all'Angelus, in tutti i tentativi possibili per raggiungere la pace. Penso in particolare alla missione della diplomazia umanitaria che lei ha affidato al cardinale Zuppi in Ucraina. Al di là della speranza, esistono delle reali possibilità per arrivare alla fine di tanta violenza? La speranza è come la forza che ci porta avanti. La speranza non delude. C'era la Turandot che diceva che deludeva. Adesso la speranza non delude, mai delude. Dobbiamo aggrapparsi alla speranza. La speranza, immagine cosa bella della speranza, è l'ancora, che tu la butti e vai avanti aggrappato alla corda per arrivare alla spiaggia. Quest'ancora che l'immagine di speranza mai delude. Ma siamo noi a fare e a fabbricare delle delusioni, tante, che sono criminali. Tutti i giorni io mi comunico telefonicamente con la parrocchia di Gaza e mi dicono le cose che succedono. Terribile quello. Quanti arabi morti lì e quanti israeliani morti. Due popoli chiamati a essere fratelli, autodestruggendosi uno all'altro. Questa è la guerra, distruggere. A volte si ha l'impressione che la parola pace sia considerata un pensiero che abita le menti ingenue, no? Si dice che la guerra c'è sempre stata, è la natura umana. Ecco, lei, Santo Padre, pensa che l'uomo davvero sia questo, che questa sia la natura umana? La guerra è incominciata all'inizio del relato biblico della creazione, Caino e Abelle. C'è incominciata la inimicizia, il crimine della guerra. Poi nella storia sempre ci sono state le guerre. Ma la guerra è una ozione egoistica che ha questo gesto, prendere per me. Invece la pace ha il gesto contrario, dare e dare la mano. È vero che è rischioso fare la pace, ma è più rischioso la guerra, più rischioso. Vediamo le due guerre che sono vicine adesso. Ma pensa che da quando è finita la seconda guerra mondiale, adesso l'ho detto, non sono finite le guerre. Adesso due guerre che come sono vicine a noi le sentiamo più. Quella dell'Ucraina Russia e quella Palestina Israele. Come mai non si può fare la pace? Dietro le guerre, diciamolo, con un po' di vergogna, ma diciamolo, c'è il commercio delle armi. Mi diceva un economo che in questo momento gli investimenti che danno più interesse, più soldi, sono le fabbriche delle armi. Investire per uccidere. Questa è una realtà, io non suono il violino, questa è una realtà. Lei è la massima autorità morale sul pianeta e ogni giorno incontra i potenti della Terra, li conosce, gli parla. Che cosa passa nelle menti di chi progetta e poi fa la guerra? Sono uomini come noi, ma che cosa li porta a tali decisioni? Credo che è difficile esprimere una motivazione generale. Alcuni ha un senso di patriotismo, in altri è un senso di interesse economico, in altri è fare un imperio e andare avanti, il potere del dominio. Ognuno ha le motivazioni proprie, ma le guerre sono per distruggere. Sempre. Guarda le immagini delle guerre adesso. Guarda l'immagine della striccia di gasa. Guarda l'immagine della Crimea, Ucraina. Guarda l'immagine. Distrugge. Un'esperienza che ho avuto poco tempo fa, un paio di anni. Io sono andato a una visita a un paese europeo e doveva fare di una città a un'altra con l'elicottero, ma quel giorno c'era la nebbia e sono dovuto farla in macchina, due ore di macchina. La gente nei villaggi sapeva per la radio e aspettava che io passasse. Curioso. C'erano bambini, bambine, coppie giovani, coppie di mezza età, ma a certa età c'erano nonne, signore anziane, raramente qualche anziano. Cosa significa questo? La guerra. Questi uomini non sono arrivate alla recaia. La guerra è così. Distrugge, uccide. L'odio di oggi costruisce l'odio di domani, costruisce anche il rancore, la vendetta e per questo è molto importante pensare in particolare al futuro dei bambini che sono innocenti, come lei ricordava adesso i bambini sulla strada, che sono il futuro e soffrono prima di tutti e più di tutti. Lei a novembre li ha ricevuti in udienza, ne hanno scritto una bellissima lettera dicendo nessuno pensa a noi, l'hanno ringraziata perché lei li ha convocati e gli ha parlato. Ma i bambini davvero spesso dimentichiamo che cosa vuol dire una guerra sulla loro pelle? Mercoledì scorso non l'altro è venuta una delegazione dei bambini dell'Ucraina che sono arrivati qui con i genitori o qualcuno che le ha portate. Hanno visto qualcosa della guerra. Ti dico una cosa Fabio, nessuno di loro sorrideva. Ma i bambini spontaneamente sorridono. Io le davo delle cioccolate e sorridevano. Avevano dimenticato il sorriso e che un bambino dimentichi il sorriso è criminale. Questo fa la guerra. Impedisce di sognare. Senza dimenticare che poi i bambini sono in una grandissima parte del mondo sfruttati, abusati, adoperati come soldati, come corrieri per la droga, soffrono la fame, il freddo, rovistano, li vediamo rovistare nelle discariche delle metropoli, delle grandi città in cerca di cibo. Non vivono, sopravvivono la gran parte dei bambini di questo mondo. Sono i grandi sfruttati, i grandi scartati. e dimentichiamo che loro sono il futuro. Ma noi le togliamo il futuro al bambino. Poi quando arriva 20, 22, 23 anni e finisce in carcere, noi diciamo ma questa generazione è sporca, guarda le cose che fa. Siamo stati noi, è stata la società a educarli così. Non perché le ha detto tu devi uccidere, tu devi robare. No, ma le ho messo in condizione al margine della società come scarti. E lui si sente scarto e vivono come scarto. E fanno delle cose che li scartano. E' terribile, e questa è una condena a morte dei bambini. Adesso, nel mese di giugno, maggi di giugno, si farà il primo incontro mondiale dei bambini. qui a Roma. Un po' per questo, per attirare l'attenzione. Quando avevamo fatto l'incontro con i bambini, c'erano 7500 di tutto il mondo. Paesi di pace e di guerra. Adesso si farà un altro. Ma questo è un primo incontro mondiale per aiutare a tirare l'attenzione che i bambini sono il futuro. Ma sono il futuro con le cose che noi le daremo. O le faremo crescere bene o le faremo crescere male. Non dimentichiamo che con i bambini non si gioca. È il futuro. Grazie, Santo Padre. Quindi, dopo l'incontro del 6 novembre scorso, a giugno ci sarà quest'altro incontro con i bambini. Santo Padre, senta, volevo fare una domanda, se mi posso permettere. Ma se siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio, perché siamo capaci di procurare il tanto dolore? Se siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio, da dove arriva il male? Il male arriva dal proprio cuore, sempre. Noi abbiamo la possibilità di scegliere o il bene o il male. Il cuore ha capacità di fare il male. Dall'inizio, pensa alla litte dei fratelli Caino e Abel. Noi abbiamo quella possibilità. E poi tutte le guerre che si sono susseguite. Dal cuore. Il cuore ha la capacità di fare il bene e il male. E qui radica il fatto della propria libertà. L'uomo è libero. È vero che tante volte è condizionato da questioni politiche, sociali. Abbiamo parlato dei bambini condizionati. Ma il cuore dell'uomo è libero. E quando un capo di Stato decide di fare una guerra, lo fa generalmente una guerra offensiva, non defensiva. Lo fa con libertà. E poi non dimentichiamo, ripeto, che il commercio forse che oggi dà di più è il commercio delle armi. Il commercio delle armi. E tante volte le guerre si continuano, si fanno più larghe per vendere le armi o provare le armi nuove. E la gente che muore è un po' il prezzo che si paga per provare armi nuove o scambiare lo staff delle armi che ho. Lei nel nostro precedente incontro televisivo ci disse che il perdono è per tutti. Anzi, disse una frase che io non dimenticherò mai. Lei disse se il perdono è un diritto col solito coraggio che la contraddistingue e che ci accompagna grazie al cielo nella nostra vita e tutti i giorni. Ecco, questo diritto vale anche per coloro che commettono le violenze più efferate, per coloro che non conoscono la pietà e che sono capaci di azioni come quelle che vediamo nelle guerre di adesso che non hanno nulla di umano? Perdono è per tutti. Una cosa che mi piace una volta che mi ha detto una persona molto saggia, semplice Dio non si stanca di perdonare mai. Dio perdona sempre perché è da Lui il perdono ma siamo noi a stancarci di chiedere perdono e questo è il problema il cuore aperto al perdono viene subito presso dal cuore di Gesù che perdona tutto perdona tutto ma il cuore indurito nostro diviene incapace di chiedere perdono e questa è una cosa molto brutta questa è una cosa la incapacità di chiedere perdono e da Lui viene una certa incapacità di essere perdonato ma non perché il Signore non perdoni ma perdona tutto e questo è un pazzo di amore diciamo così ma noi siamo noi a stancarci di chiedere perdono e nelle volte il Signore aspetta bussa alla porta di tanti cuori perché abbiano questa capacità di riconoscere il male che stanno facendo pensa a questi fabbricatori delle armi che sono fabbricatori di morte il Signore è vicino a loro tocca il cuore per portarli a un cambio di vita e il Signore non si stanca di perdonare ricordiamo questo Dio mai si stanca di perdonare siamo noi a stancarci di chiedere perdono questo non dimenticarlo mai durante l'omelia del giorno di Natale lei ha detto Dio è compassione e misericordia e ha ripetuto una frase che altre volte aveva adoperato Dio è onnipotente sempre e solo nell'amore si fa vicino tenero e compassionevole ecco questo modo di essere di Dio vicinanza compassione e tenerezza in che modo può aiutarci nel dolore Santo Padre nel dolore che può colpire ciascuno di noi o che può colpire una collettività io dirò due direzioni di avvicinarci al Signore o lasciare che il Signore si avvicini nelle volte noi abbiamo per le circostanze per la guerra per esempio abbiamo rabbia nel cuore e se la prendiamo col Signore ma perché tu permetti queste cose perché tu lascia che noi ci distruggiamo così il Signore è vicino e noi la strada vera è anche sgridando così il nostro dolore è lasciare che il Signore sia vicino e non dimentichiamo questo delle volte si presentano al Signore come il giudice implacabile e vi lo è giudice è vero ma lui è vicino compassionevole è misericordioso questo è il Signore non è il Dio tremanze per castigare e così lo presenta la Bibbia sempre il problema è che noi abbiamo paura di chiedere perdone le volevo chiedere come possono stare insieme misericordia divina e punizione divina di cui spesso sentiamo parlare esiste la punizione divina è la punizione dei papà e mamà col bambino quando gli danno qualche castigo o qualche penitenza per correggerlo il Signore diciamo così castiga per correggere castiga con amore e a una mamma a papà quando le dà qualche cosa bum bum al bambino se un bel papà una bella mamma ti duele più la mano ha più dolore nelle mani che il bambino nel sedere è così papà Francesco guai del papà e la mamma che guai del papà e la mamma che non sente dolore quando barchetta un po' il bambino questa non va lì papa Francesco però nel sacramento della confessione al momento della penitenza viene fatto ancora oggi recitare l'atto di dolore nel quale c'è un passaggio in cui si dice perché peccando ho meritato i tuoi castighi ma questo cosa vuol dire che le nostre disgrazie o i guai che abbiamo sono castighi di Dio per i nostri peccati o sono diciamo o le parole di questa orazione sono forvianti non so se sono forvianti ma è un'espressione literaria perché peccando ho meritato i tuoi castighi e il peccato merita il castigo se una persona fa qualcosa brutta il giudice lo mette in carcere le cose brutte vanno castigate ma è un'espressione troppo dura dell'amore di Dio a me piace di più dire perché peccando ho rattristato il tuo cuore a me piace più questo perché il cuore di Dio è anche un cuore umano lui si è fatto uomo e lui si rattrista quando vede la nostra durezza di cuore il nostro piano di andare avanti con i nostri egoismi e lui ma una cosa bella che a me piace pensare è che Dio ci castiga carezzando perché lui ci mette in difficoltà della vita perché noi pensiamo le cose brutte che abbiamo fatto e cambiamo vita a lui interessa cambiare vita lui è il grande perdonatore non si stanca di perdonare e quante volte devo perdonare 80 volte sempre 8 80 800 volte sempre perché dice il Signore che noi dobbiamo perdonare così perché lui è così lui perdona sempre non si stanca di perdonare si può chiedere tutto a Dio noi ci rivolgiamo sempre a lui per ogni nostra necessità anche le più banali si si può chiedere tutto e in questo io penso che noi siamo delle volte proprio timidi non abbiamo il coraggio di chiedere tutto al Signore il Signore cosa ha detto nel Vangelo chiedete e avrete chiedete chiedete quella saggezza cristiana di imparare a bussare la porta del cuore di Dio Santo Padre lei alla giornata mondiale della gioventù in Portogallo la scorsa estate pronunciò una frase potente una frase che molti cristiani stavano aspettando da tanto tempo lei disse per tre volte la parola todos tutti lei disse la Chiesa accoglie todos non esclude nessuno ecco una Chiesa che accoglie e che non punisce però può non piacere a molti di coloro che sul giudicare e sulla punizione hanno creato il loro potere la Chiesa ha questa dimensione cordiale che viene dal cuore tutti tutti a casa tutti dentro lo dice il Signore quella parola con la parola del Signore mi piace tanto quando gli invitati alle nozze del figlio non sono venuti perché ognuno aveva i propri interessi cosa dice il Signore ai Suoi aiutanti andate all'incrocio delle strada e portate tutti buoni e cattivi sani e ammalati giovani e vecchi tutti 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 dentro questo è l'invito del Signore e ognuno col proprio fardello perché ognuno ha il proprio e il Signore dice tutti questo lo dice il Signore non lo dico io il problema è quando noi facciamo delle selezioni questo sì questo no faccia lui noi tutti poi dentro vediamo grazie santo padre senta vorrei farle una domanda che spesso mi pongo quando penso a lei lei si sente solo santo padre soprattutto quando prende decisioni o fa delle scelte che provocano reazioni di dissenso di una parte della curia romana nell'episcopato anche in alcuni fedeli penso per esempio alla recente nota di Castero della dottrina della fede sulle benedizioni che lei ha approvato e che prevede la possibilità di benedire anche coppie irregolari e anche coppie dello stesso sesso sì c'è vero all'ora di prendere una decisione c'è un un prezzo di solitudine che tu devi pagare e dalle volte le decisioni non sono accettate ma la maggior parte dei che quando non si accettano la decisione è perché non si conosce io dico quando a te non piace questa decisione vai a parlare e di i tuoi dubbi e porta avanti una discussione fraterna e così va avanti la cosa il pericolo è che non mi piace e me lo metto nel cuore e così ti vengo con una resistenza e faccio delle conclusioni brutte questo è successo con queste ultime decisioni sulla benedizione a tutti il Signore benedice tutti 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 che vengono benedice il Signore benedice tutti coloro che sono capaci di essere battessati cioè ogni persona ma poi le persone devono entrare in colloquio con la benedizione del Signore e vedere cosa è la strada che il Signore gli propone ma noi dobbiamo prendere per mano e aiutarli ad andare quella strada non condenarle dall'inizio e questo è il lavoro pastorale della Chiesa e questo è un lavoro molto importante per i confessori io sempre dico ai confessori voi perdonate tutto e trattate la gente con molta bondà come il Signore ci tratta noi e poi se tu vuoi aiutare la gente poi puoi parlare e portarle sempre avanti e aiutarle ad andare avanti ma perdonare tutti in 54 anni di prete che io questa è una confessione 54 anni che sono prete io sono vecchio e in questi 54 anni ho soltanto perdonato negato una sola volta il perdono per l'ipocrisia della persona una volta sempre ho perdonato tutto ma anche con la dirò con quella consapevolezza che quella persona forse ricadrà ma il Signore ci perdona aiutare a non ricadere o a ricadere meno ma perdonare sempre un grande confessore che l'ho fatto cardinale nell'ultimo conclave il l'ultimo consistorio scusa è è un uomo di 94 anni un frate capuccino d'Argentina e lui è un grande perdonatore come diciamo noi in manica larga perdona tutto una volta è venuto all'episcopio quando io ero ci percogli e mi ha detto senti Giorgio io questo problema io perdono troppo e dalle volte mi viene la sensazione che non sta bene e cosa cosa fai Luigi ma quando vado in cappella e chiedo perdono al Signore Signore scusami ho perdonato troppo ma senti sei stato tu a darmi il cattivo esempio questo è vero noi dobbiamo perdonare tutto perché lui ci ha perdonato lui ci ha dato questo cattivo esempio dobbiamo abbracciare Papa Francesco proprio forte forte ci dà un conforto meraviglioso una forza unica Santo Padre qual è qual è la riforma più urgente di cui secondo lei nel suo cuore sente che avrebbe bisogno la Chiesa la riforma dei cuori per tutti i cristiani le strutture vanno conservate cambiate riformate secondo la finalità e questo io posso dire che anche può essere una cosa meccanica in buon senso la parola ma le strutture vanno sempre aggiornate usiamo questa parola positiva cambiate per aggiornare ma il cuore va riformato tutti i giorni cambiare il cuore e questo è un lavoro di tutti i giorni quando noi sentiamo nel cuore qualche cattiveria l'invidia per esempio l'invidia che quel vizio giallo a me piace chiamarlo è un vizio giallo che rovina tutti i rapporti e dobbiamo pentirci cambiare il cuore continuamente e stare attento cosa succede nel mio cuore per cambiare cambiare il cuore e poi cambiare le strutture le strutture vanno cambiate perché la storia va avanti le cose che andavano bene nello secolo scorso adesso non vanno bene ma abbiamo la libertà di cambiarle perché non sono cose assolute in se stesse sono cose relative al momento storico che cos'è che non cambia mai invece Santo Padre che cos'è che non cambia mai ma incominciamo dal Signore no il Signore lui è l'Eterno ma come il Signore ha il cuore cambia pure un qualcosa va cambiando si dice che cambia l'atteggiamento è un modo di dire perché è tanto buono che è capace di avvicinarsi alle nostre debolezze e cambiare forse una condena per un perdono questo è il Signore ma la lealtà la rettitudine di intenzione queste cose non cambiano sono cose tu sei onesto o non sei onesto le onestà gli atteggiamenti morali in astratto non cambiano nel concreto cambiano secondo le situazioni no Santo Padre un altro tema che le sta molto a cuore è che è un grande rimosso della società nel senso che cerchiamo proprio di rimuoverlo di allontanarlo è quello dei migranti se io penso ai racconti gli articoli che scrive il nostro amico Nello Scavo piuttosto che al suo incontro Santo Padre a novembre quando lei ha incontrato Pato il padre di quella bambina di sei anni Marie che è stata trovata morta accanto alla mamma Matila di fame e di sete mentre attraversavano il deserto fra Tunisia e Libia c'è una fotografia che per me è una delle immagini più dure anche per la tenerezza che esprime persino in quel momento questa fotografia ecco di fronte a questa immagine di queste due vite spezzate nel momento in cui andavano a cercare un futuro si dovrebbe fermare il mondo e invece non succede quasi niente con il problema migranti c'è crudeltà c'è tanta crudeltà nel trattare questi migranti dal momento che escono da casa sua fino a arrivare qui in Europa c'è un libro molto bello molto bello è piccolino si legge in poche ore si chiama fratellino l'originale spagnolo hermanito fratellino lo scrisse un migrante che ha spento tre anni per venire dalla Guinea in Spagna e ha scritto questi tre anni di schiavitù le sofferenze le torture questo fanno la gente che lo prende questa mafia che li sfrutta è venuto a vedermi l'altro giorno perché adesso lavora in Spagna per ringraziare che io abbia parlato del suo libro ma tutta una vita come quella di Patto che ha perso la moglie la figlia e tanti altri l'altro giorno c'è un caso di una persona torturata ma i delinquenti avevano chiesto una bella summa per lasciarlo libero così succede nelle coste libiche grazie a Dio abbiamo trovato il benefattore che ha pagato e lui è arrivato i migranti sono trattati tante volte come cose penso alla tragedia di Cutro lì davanti annegati per respingere è vero che ognuno ha il diritto di rimanere in casa ed emigrare è vero che in questo momento in Europa sono 5 paesi che ricevono i migranti Cipro Grecia Malta Italia Spagna non chiudere le porte per favore e anche alcuni di questi paesi non fanno figli hanno bisogno di mano d'opera in alcuni di questi paesi ci sono villaggi vuoti una bella politica della migrazione bella ben pensata aiuta anche ai paesi sviluppati come l'Italia la Spagna eccetera dobbiamo prendere il problema dei migranti nelle mani togliere tutte queste mafie che sfruttano i migranti e andare avanti nel risolvere il problema sia della necessità di persone nei paesi sia della migrazione migrare è un diritto e rimanere in patria è un altro diritto rispettare una politica capo di governo molto importante dell'Europa una volta ha detto il problema della migrazione africana si risolve in Africa aiutare a sviluppare l'Africa perché non abbiano la necessità di venire il problema migrante è molto importante ma se voi avete un po' di tempo leggete questo libro fratellino è la storia dura della migrazione allora tanto le prometto che leggeremo fratellino è una promessa fatta al Papa non si può mentire quindi è una promessa vera e poi lo dico ai miei colleghi invitiamo l'autore noi qui e ci facciamo raccontare la storia e la raccontiamo a tutti quelli che ci guardano Santo Padre le vorrei fare una domanda personale lei spesso dice no anzi sempre dice chiede di pregare per lei posso chiederle perché e se c'è qualcosa in particolare che la preoccupa perché io sono peccatore e ho bisogno dell'aiuto di Dio per rimanere fedele alla vocazione che lui mi ha dato ognuno ha la propria vocazione tu hai la tua fai tanto bene con la tua professione che nasce da una vocazione del cuore ognuno ha la propria la propria vocazione che deve portarla avanti signora mi ha chiamato a fare il prete a fare il vescovo e come vescovo ho una responsabilità molto grande in confronto della chiesa e conosco le mie debolezze e per questo io devo chiedere preghiere a tutti che preghino per me perché io sia rimasto fedele nel servizio del Signore che non finisca in un atteggiamento di pastore mediocre che non si prende cura delle dell'ovile pastore messo al grece per sentire l'odore del grece per conoscere il papa deve conoscere com'è il grece pastore dietro il grece per aiutare andare avanti e dalle volte per lasciare che il grece col fiuto cerchi i nuovi pasti e pastore davanti il grece per guidare per questo ho bisogno di preghiera per questo chiedo preghiera perché io non manchi di essere pastore e non signore ci ha chiamato i pastori a essere pastori di popolo e non mi piace dire non chiedi così stato non messi l'abbè del corso francese secondo me ti permetto di dire le preghiere sono state e sono ben accolte ed esaudite tutti i giorni perché lei è una guida ed è una luce per tutti noi papà francesco faccio una domanda un po' infantile mi permetta ma quando lei prega come immagina il volto di dio uso immagini del Vangelo a me piace immaginarlo come il papà generoso che riceve il figlio che se n'è andato e ha spesso la fortuna e torna ferito lo riceve e dice il Vangelo che che il figlio aveva preparato il discorso papà ho peccato contro il cielo contro di te ma il papà con un abbraccio quasi non ha lasciato parlare a me piace pensare il Signore con questo abbraccio quando io vado a dire ma ho fallito in questo mi piace pensarlo con la mano mi fa così e mi dice ma vai avanti vai avanti continua a andare avanti il Signore che ci spinge ad andare avanti che non si scandalizza dai nostri peccati perché Lui è Padre e ci accompagna Lui dà per scontato che siamo peccatori il problema è di Lui si accompagna il peccatore o le mando all'inferno subito e Lui Lui sceglie di accompagnarci e per questo ha inviato il suo figlio per accompagnarci Signore ha inviato il figlio al mondo non per condenare al mondo ma per salvarlo così dice l'eturgia in questo senso in conseguenza di queste parole è anche difficile immaginare l'inferno come un padre che condanna in eterno è difficile immaginarlo insomma e sì è difficile immaginarlo questo non è il dogma di fede è quello che dirò è una cosa mia personale che mi piace a me piace pensare l'inferno vuoto è un piacere spero che sia in realtà ma è un piacere santo padre è in previsione un suo viaggio in Argentina è preoccupato per il suo paese sì mi preoccupa perché la gente sta soffrendo tanto lì è un momento difficile del paese è in piano la possibilità di fare un viaggio nella seconda parte dell'anno perché adesso c'è un cambio di governo c'è una cosa nuova e anche io qualche compromesso di fare per esempio agosto devo fare il viaggio alla Polinesia lì lontano e dopo di questo si farebbe quello di Argentina se si può fare ma io vorrei andarci a dieci anni sta bene va bene posso andare glielo auguro con tutto il cuore qual è il primo ricordo ma proprio materiale quasi un oggetto un momento che le viene in mente pensando a casa sua in Argentina la prima cosa la prima cosa sono i nonni perché li spiego mamma ha avuto il mio secondo siamo in cinque il mio secondo quando io avevo tredici mesi ancora un bambino da cudire i nonni abitavano a quaranta metri e la nonna veniva al mattino mi portava a casa loro io passavo tutto il mattino pranzavo con loro e poi dopo pranzo mi riportava a casa questo è un bel ricordo che io anche e questo si spiega perché la mia prima lingua parlare non è stato lo spagnolo ma il piemontese perché loro parlavano piemontese è stata proprio la mia prima lingua ma questo è il primo ricordo i nonni ossia i nonni per la mano mi portavano a casa dopo il pomeriggio c'è qualcosa che le fa paura Santo Padre? è qualche cosa sì ci sono alcune cose che mi fanno paura per esempio questa scalation bellica mi fa paura perché questo portare avanti passi bellici nel mondo uno si domanda come finiremo con le armi atomiche adesso che distruggono tutto come finiremo come l'arca di Noè questo mi dà paura la capacità di autodistruzione che oggi ha l'umanità e c'è qualcosa invece che nel suo quotidiano la fa ridere o la fa sorridere? la tenerezza dei bambini questo mi fa sorridere e poi i nonni sono i miei coetanni no? ma a me piacciono mi piace a me parlare con i nonni avere questo rapporto con i nonni hanno saggessa i nonni hanno saggessa non dimenticare queste due capacità che noi dobbiamo avere di parlare con i bambini ascoltarli farle ridere parlare con loro e con i nonni ascoltare le storie qualcuno dice ma sono noiosi sempre raccontano lo stesso ma sono storie di vita e questo aiuta pure ora la lascio andare Santo Padre ancora una domanda le vorrei fare lei è d'accordo con chi dice che il senso della vita sia imparare ad amare che è la cosa più importante che possiamo fare nella nostra esistenza è un modo di dire una grande verità si può riassumere il cammino della vita con imparare ad amare e sempre si può imparare ad amare di più e c'è tanta gente che ti ha dato l'esempio di amore eroico che li ha portato alla morte a dare la vita per le altre imparare ad amare mi piace quella formulazione mi piace bene Santo Padre lei questa sera non ha soltanto dialogato con noi lei ci ha consolato e ci ha abbracciato io vorrei nel ringraziarla restituirle l'abbraccio più se mi permette insomma lo dico come mi viene dal cuore più affettuoso che si possa immaginare a lei che tanti di noi aspettavano da tanto tempo e ringraziarla per la luce come ho detto prima che illumina le nostre vite e per il suo sguardo sull'umanità intera che ci consola e ci protegge e nel salutarla e nel dirle questo voglio dirle se vuole rivolgersi direttamente a chi ci sta guardando se ha qualcosa che vuole dire direttamente al pubblico che è davanti alla televisione sì grazie grazie per averci guardato in questo dialogo grazie per essere vicini vi chiedo di pregare per me pregare pregare perché io vada sempre avanti perché io non fallisca nel mio dovere ma per favore pregare a favore no contro grazie 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 Papa Francesco un abbraccio forte grazie di cuore grazie di cuore è stato un grande privilegio un grande un grande regalo quello che ci ha fatto a presto buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti